Il nucleo depressionario posizionato sul terreno interesserà ancora gran parte della nostra penisola, ma la contemporanea presenza sull'Europa orientale di un vasto sistema anticiclonico tenderà a mitigarne gli effetti e porterà a un generalizzato aumento delle temperature. Oggi, sulla nostra regione, avremo ancora condizioni di tempo perturbato, con cieli molto lungolose e precipitazioni diffuse, anche intense, più probabili sul versante occidentale. A causa delle correnti meridionali, l'acquota neve sarà in rialzo e possibili nevicate interesseranno solo i rilievi principali. I venti, fino attesi, saranno di scirocco su tutto l'Abruzzo, mari da molto mossi e agitati. Le temperature minime sono in netto aumento, con valori al di sopra dello zero all'interno e che raggiungeranno anche 8 gradi lungo il litorale. I valori massimi si manterranno pressoché stazionari. Domani avremo ancora instabilità residua, con fenomeni in attenuazione in serata. La temperatura è stata attesa in ulteriore rialzo nei valori minimi. Giovedì si prevede un miglioramento, con cieli sereni o parzialmente nuvolosi. Per ora questo è tutto dal CETEMS Linea all'Ustudio.